Nel contrasto alla violenza maschile sulle donne e nei percorsi di autodeterminazione che il Comune di Napoli ha già avviato attraverso numerosissime attività partendo dai centri antiviolenza, alle case rifugio, alle case d'accoglienza oggi abbiamo un nuovo importantissimo tassello per sostenere le donne nei loro percorsi di autonomia ovvero il sostegno all'abitare inteso sia come una soluzione abitativa che le reinserisca nella società, nel tessuto sociale dopo essersi riappropriate della propria vita grazie agli altri servizi già attivi ma anche un sostegno all'abitare che significa interventi per comprare libri per eventuali figli minori percorsi di orientamento al lavoro, sostegno alla professionalizzazione quindi all'inserimento lavorativo che è l'elemento chiave per una vita sociale per la vita sociale di tutti noi, tanto più per le donne vittime di violenza la violenza ha tante sfaccettature tra cui anche quella economica che è tra le più subdole e la più difficile da disinnescare sono i fondi che ha stanziato il Pommetro e che l'amministrazione comunale ha redistribuito anche sul welfare una parte importante, considerevole, 500 mila euro circa destinate all'attivazione di percorsi di autonomia per le donne che sono state prese in carico da cento antivelenze e dalle case rifugio Semi di autonomia è uno strumento promosso dal Comune di Napoli per il contrasto alla violenza di genere per rafforzare il percorso di uscita dalla spirale della violenza attraverso interventi individuali finalizzati all'indipendenza abitativa e lavorativa e l'attivazione di borse lavoro per l'inserimento lavorativo sono previste anche soluzioni abitative agevolate e voucher per servizi educativi dedicati ai minori Siamo riusciti a reperire delle risorse di bilancio comunale per prorogare e andare in continuità con la gara attualmente in corso e con il bando attualmente in corso fino alla fine dell'anno Noi dobbiamo oggi conoscere la portata dei fondi che la Regione Campania intende stabilire all'ambito di Napoli e poterli mettere a bando subito Ho chiesto personalmente insieme alla delegata alle pari opportunità un appuntamento con l'assessore Marciani alla Regione Campania per poter stabilire e condividere insieme il percorso e poter assicurare per l'amministrazione comunale e quindi per il territorio della città di Napoli un finanziamento congruo all'emersione del fenomeno I finanziamenti devono essere recepiti immediatamente dagli enti locali che sono quelli che sono poi chiamati a bandire un servizio per renderlo fruibile al territorio Quindi noi speriamo che questo governo voglia leggere positivamente questi appelli che vengono da tante amministrazioni locali in Italia e che tante amministrazioni locali portano anche in sede Anci perché poi possiamo essere autonomi nella gestione e nella garanzia di questo servizio necessario